Si riaccendono i riflettori su Castelsecco. Il sito archeologico tornerà ad ospitare una lunga serie di eventi e spettacoli fino alla fine di agosto, dal musical al teatro, dall'astronomia alla poesia. Diciamo che oltre che nutrito è anche spazio su vari argomenti perché si parte per esempio con il musical già da domenica a primo luglio per passare attraverso la musica, per esempio le contaminazioni con la bossa nova, con la proposta di due serate sull'astronomia. Poi avremo di nuovo il teatro con Alessandra Bellino. Poi una serata particolarmente credo gradita che sarà molto naturalmente ironica sulla lingua e sui significati, sui dialetti con alcuni protagonisti naturalmente molto conosciuti. Ora io non starò a fare i nomi di tutti perché rischio magari anche di lasciarne. Avremo un'altra serata che sarà incentrata sulla poesia, sulla letteratura e sulla musica. E poi per finire con un laboratorio, questo rivolto diciamo ai più giovani e che faremo in collaborazione con la Fraternita, un laboratorio didattico sugli Etruschi e su Castelsecco. Un ricco calendario di eventi per tenere vivo il sito etrusco. Tra l'altro Castelsecco è il bene monumentale grazie al quale Arezzo è stata tirata dentro al progetto delle otto città etrusche che si sono consorziate e hanno fatto un progetto per entrare nella waiting list dell'UNESCO per essere definiti patrimonio dell'umanità. Quindi Castelsecco per noi rappresenta un grande valore e quindi l'associazione Castelsecco che organizza nell'estate retina una serie di eventi non può che avere il nostro plauso. D'altra parte l'amministrazione ci ha messo anche delle risorse perché ha portato lì la luce e l'acqua. Quindi sarà possibile organizzare anche in maniera più completa degli spettacoli notturni. Grazie.